68 posti letto in più per l'ospedale di Andria con il piano di riordino ospedaliero messo a punto dalla regione Puglia, oltre a potenziamenti in diversi altri settori. E' questo il commento del consigliere regionale Sabino Zinni dopo l'approvazione del piano di riordino presentato al governatore Michele Emiliano. L'obiettivo principale resta il nuovo ospedale per la BAT su cui Emiliano e Gorgoni si erano impegnati in commissione qualche mese fa. Tuttavia nel frattempo si è cercato di dare la sistemazione migliore all'esistente, prosegue Zinni, che nel suo posto ha anche raccontato le difficoltà per addivenire all'approvazione di un provvedimento importante e che rivoluzionerà il mondo della sanità in Puglia. Resta sospeso invece il giudizio sul piano di riordino del gruppo regionale dei conservatori e riformisti. Questa volta siamo noi, scrivono i consiglieri regionali di Corra, ad usare il beneficio del dubbio nei confronti del presidente Emiliano. Da quello che ci sembra di capire il piano di riordino ripresentato sarebbe stato radicalmente ripensato così come noi conservatori e riformisti auspicavamo quando sostenevamo che il piano non era emendabile ma andava completamente riscritto. Anche la riflessione e le decisioni assunte su Taranto sembrano andare esattamente su quanto da noi auspicato. Aspettiamo di valutare il piano nel merito per capire se alle belle parole dette oggi in conferenza corrispondono numeri e valutazioni reali che vadano in conto alle vere esigenze della salute dei pugliesi.